me amici ho comprato dei trucchi e delle cose strane e ora vi faccio vedere tutte cose beauty comunque allora iniziamo con questo che è un high brow non ho mai capito perché si chiamano così queste cose da saponette per fare le sopracciglia tutte verso sopra come lupo lucio poi ho comprato queste che sono tipo delle formine, degli stampini per fare l'eyeliner e gli ombretti qua stanno tutte le varianti che si possono creare con questi sticker non vedo l'ora di provarlo, magari lo proviamo insieme poi ho preso questo che è un aggeggio per fare il contouring qua e io non ce l'avevo, guardate che carino, guardate è stupendo, io lo amo sinceramente un'altra cosa che ho preso è questo che da una parte c'è la matitina così con la mina e dall'altra il pennarello per le sopracciglia ci vediamo nella parte 2 per continuare grazie a tutti grazie a tutti